Un momento ci abbiamo una telefonata una telefonata si sarà forse la sorella di Mimì pronto Chi è? Ma dove sta? E che devo rispondere pronto? Ma è pronto? E dovrei mettere ma chi sei amore della zia? E' Davide Davide, come si fa a mettere in viva voce qui? Ti aiuto io, fammi vedere Dai, mettiamole in viva voce che io non sono capace Aspetta Qui tutto in diretta, Davide? Parla? Sì Oh, Davide Perciò mi hai chiesto a che ora sei Ma guarda, te sei terribile, dove sei? Al golf Sì, lui gioca al golf, c'è sto vizio Ah, vabbè, povera te Hai visto? Cioè, mio marito da vent'anni gioca solo al golf, sono sempre da sola Se vorrei mettere sulla televisione a vedere Conovera a te Dice Mara che mi devi chiedere se ti voglio sposare No, Davide, volevo sapere se mi devo ordinare un vestito elegante per un matrimonio Ma il sento pochissimo Comunque va bene, organizzi tutto tu, Mara Zia Sì Scusa, Davide No Fatta, eh È fatta Davide Che me, oggi siamo a febbraio? Davide? Davide? Eh, non ti sento il vino? Davide, ma secondo te quando potrebbe essere? Ci voglio un po' di tempo? Ma sì, un attento ci vuole Un anno? Ma che sei matto? Ma no, a settembre, arriviamo a settembre Giugno dell'anno del 2020 Ma arriviamo a settembre 2019 che porta bene, guarda, credimi Settembre è un bel mese Ma davvero? Ma davvero? Ma davvero? Ma davvero? Ma davvero? Ma davvero? La voce e dirle una cosa carina, chiediglielo seriamente Ti è? No, ma... Beh, ho fatto proprio, sembro... Love Amore, diglielo Amore Ma veramente? È fatta, è fatta! Vabbè Cosa? Dice che imbarazzo, che lui è un timido Fatta? Tanto noi non lo sentiamo Ci vediamo a casa Ti sei commossa, amore Ci vediamo dopo Le l'ha chiesto, ragazzi, le l'ha chiesto di sposarla Pubblicità Pubblicità e poi torniamo